Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Oggi siamo al corso di formazione per le professionisti di pizzerioli. Ora, come potete vedere, abbiamo gli allievi che stanno cuocendo le pizze. Vieni Giussi, Giussi viene vicino al banco, vicino al banco di lavoro. Qui abbiamo il maestro delle pizze, Angelo Romanazzi. E qui all'Opera Chiara, con la sua pizza campagnola. Ecco qui tutti gli allievi del corso, ora stanno attendendo il loro turno. E quindi ci rivedremo presto e buona pizza a tutti, mi raccomando, mangiate le tante che ci rende sempre più felici. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.